Un boscaiolo di 47 anni è morto oggi pomeriggio, travolto da un albero. È successo attorno alle 14.30 nei pressi del passo della Calla, all'interno del parco delle foreste casentinesi. L'uomo, di origini rumene, residente a Prato Vecchio, stava effettuando alcuni lavori di taglio alle piante quando un grosso tronco gli è caduto addosso e l'ha ucciso sul colpo. La dinamica dell'incidente resta ancora da chiarire. A lanciare l'allarme sono stati i colleghi e il titolare dell'azienda per la quale il 47enne lavorava. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. I sanitari, una volta arrivati, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. In volo si era alzato anche l'elisoccorso Pegaso per un eventuale trasporto d'urgenza. Intervenuti anche i carabinieri che stanno portando avanti tutte le verifiche del caso assieme al PISR e i vigili del fuoco da Bibiene dal distaccamento di Prato Vecchio Stia che hanno proceduto a rimuovere il tronco dell'albero per liberare il boscaiolo. È stata infine disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo che sarà effettuata domani.